La magia della nebbia nel Vallo di Diano. Insomma, uno spettacolo. Venite a visitare questo angolo di paradiso. Una delle immagini che meglio identifica il Vallo di Diano è quella di un mare di nebbia che avvolge uno dei luoghi più suggestivi della campagna, al confine con la Basilicata. Nel periodo autunnale, invernale, ma anche nel periodo primaverile, quando si verificano determinate condizioni climatiche, il vallo viene letteralmente avvolto in una soffice coperta di nebbia. Ci si sveglia senza conoscere il tempo che sarà, mentre dall'alto un sole splendido illumina i monti e la nebbia. In molte occasioni sono affascinanti le foto che ritraggono Tegiano, la storica Diano, a forma di cuore che fa capolino sopra la nebbia e la domina, e Atena Lucana che la sovrasta. In generale la visione è mozzafiato dai paesi più alti e da chi si trova sui monti valdianesi.